Ezio Bonanni, Presidente dell'Osservatorio Nazionale Amianto. Lei è qui per il Fair Play Day ma vuole anche fare una denuncia in relazione alla situazione amianto negli impianti sportivi. Gli impianti sportivi che sono stati edificati e realizzati prima del 1992 purtroppo hanno componenti in amianto o materiali che compongono amianto. Lo dimostra anche il fatto che il velodromo che fu abbattuto con una carica esplosiva nel 2008 qui a Roma avesse dei materiali contenenti amianto. Quindi come associazione abbiamo lanciato l'idea di un protocollo d'intesa o comunque di un procedere insieme con il CONI ed in particolare con il CONI Fair Play in modo tale che si possano aumentare gli investimenti pubblici per realizzare nuovi impianti per ciò stesso più efficienti e privi di amianto. In più ci sarebbe la possibilità di aumentare il numero dei fruitori allargandoli a tutte le fasce di età e questo sarebbe importante anche per la prevenzione di molte patologie come il diabete ma anche lo stesso cancro e anche di patologie d'amianto. Ed inoltre abbiamo auspicato che il mondo politico prenda spunto dai nostri campioni olimpici che hanno fatto grande l'Italia non solo per i risultati che hanno conseguito nelle diverse discipline ma anche per il senso di lealtà, di correttezza e di onore che hanno dimostrato facendo grande l'Italia. Applicando questi principi anche in politica si possono conseguire eccellenti risultati a tutela della salute pubblica e dell'ambiente.